La conoscenza del territorio attraverso la grammatica delle immagini e la promozione della cultura cinematografica attraverso filoni tematici legati al territorio e alla sua identità. Questo l'intreccio di finalità che scandisce la rassegna 3C, Cibo, Cilento Cinema, in programma dal 19 novembre al 13 dicembre, rivolta agli studenti e ai docenti delle scuole del Cilento e della Campania, che utilizza l'opera cinematografica come strumento educativo interdisciplinare sui temi del cibo e del patrimonio culturale. La rassegna è ideata e realizzata dalla Fondazione Alario per Elea Velia di Ascea, che ha inteso declinare la strategia del Piano Nazionale Cinema per la Scuola, promosso dal MIBACT e dal MIUR e gli obiettivi dell'avviso Buone Pratiche, Rassegne e Festival, nella felice intuizione di rendere il cinema e l'audiovisivo, oltre che un'arte di cui favorire una più diffusa cultura, anche veicolo per la crescita civile, l'integrazione sociale e le relazioni interculturali nelle scuole. Gli incontri con allievi e docenti, per i quali la Fondazione Alario si avvale della collaborazione del supporto tecnico della Cilento Film Music Festival e della Film Studio di Gianni Petrizzo, si articoleranno nella proiezione di spezioni di opere cinematografiche, il cui set di ripresa è localizzato nell'area del Cilento, e di cortometraggi sulla dieta mediterranea, intervallata da sessioni didattico-seminariali, pensate per stimolare gli studenti a leggere, decodificare e usare in maniera consapevole l'immaginario filmico legato al luogo in cui vivono. Strumento di supporto e approfondimento dei contenuti audiovisivi fruiti sarà il catalogo dei film curato per l'occasione, che raccoglie le schede dei dettagli e le curiosità delle oltre 40 produzioni internazionali che dalla seconda metà degli anni venti hanno avuto nel Cilento le proprie filming locations. Tra le più recenti, Il Maestro più Margherita, pellicola girata interamente nel Cilento, a Cannalonga, pluripremiata a livello internazionale come miglior film al Festival del Cinema Italiano di Las Vegas e come migliore opera straniera al Festival di Sant'Andrea della Barca di Barcellona, con la menzione d'onore al Berlino Flash Film e solo due giorni fa ancora come miglior film al Festival Mondiale del Cinema di Veracruz in Messico. La pellicola sarà proiettata presso il Cineteatro Parmenide ad Ascea in occasione dell'evento finale della rassegna del 13 dicembre, sia nella sessione mattutina a cui saranno chiamate a partecipare tutte le scuole coinvolte nella rassegna, sia in quella serale, aperta al pubblico, occasione di incontro con l'autore della sceneggiatura Giovanni Laurito, il regista Gianni Petrizzo e il cast. Sono tre C, si legge sulla presentazione del catalogo, a legare i temi della cultura cinematografica a quelli dell'identità territoriale. In un'area come il Cilento, che è due volte patrimonio mondiale dell'umanità, paesaggio culturale e comunità emblematica del modello alimentare e della dieta mediterranea, alle tre C di Cibo, Cilento Cinema, se ne aggiunge di diritto un'altra, quella della consapevolezza ed espressione culturale, che la rassegna intende trasferire usando a pretesto le suggestioni del cinema e dell'audiovisivo. La rassegna, pertanto, nei propositi della Fondazione Alario, può essere inquadrata in una più generale operazione di alfabetizzazione ai media e all'audiovisivo, perché per i giovani che costruiscono il proprio profilo di competenze accanto all'alfabeto tradizionale, si fa strada alla necessità di creare spazi per i nuovi alfabeti, primo tra essi quello rappresentato dal linguaggio delle immagini mediali, di cui il cinema è vocabolario enciclopedico di inesurabile valore.